Nei giorni scorsi i militari della stazione di Montecchio di Vallefoglia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato un'autovettura con targa francese con a bordo quattro soggetti di nazionalità lituana, in Italia e senza fissa dimora, i quali sono stati denunciati ai danni di un supermercato simpli e in possesso ingiustificato di armi. Con loro avevano un coltello e due pistole ad aria compressa, prive del relativo tappo russo. Durante il controllo sono spuntati fuori anche una mazza da muratore, un'accetta, un piede di porco, un cacciavite, una tronchese, una forbice, un rotolo di nastro adesivo, una tannica di 25 litri contenente diesel con tubo in gomma. Nei giorni seguenti i carabinieri li hanno tenuti sott'occhio controllando ogni loro spostamento. Per tentare di capire il loro reale motivo della presenza in Italia, i carabinieri hanno interessato anche la polizia internazionale. Ed è stato grazie all'Interpol che è emerso che uno dei quattro lituani aveva un documento di identità falso. Per questo, qualche giorno più tardi, è stato rintracciato agli esi e tratto in arresto per false dichiarazioni sulla propria identità, sostituzione di persona e ricettazione. Nel frattempo si sta cercando di ricostruire l'esatta identità della persona arrestata.